Nel precedente video abbiamo visto come scattare all'ombra e senza l'ausilio del flash. Ma se ci dovessimo spostare al sole, quindi sfruttandone la luce diretta, cosa dobbiamo fare? Ciao a tutti e bentornati. Il sole è sicuramente la fonte di luce preferita da qualsiasi fotografo, ma c'è un piccolo rovescio della medaglia. Non può essere regolato. Cosa vuol dire questo? Ma semplicemente che non può esserne regolata l'intensità, quindi la forza della luce che arriva sul nostro soggetto e nemmeno la posizione. Anzi, a differenza del momento della giornata in cui andiamo a scattare, la luce può cambiare drasticamente. E allora, che cosa facciamo? Ma partiamo subito dal presupposto che andare a fare un sopralluogo sulla location è sicuramente la cosa migliore. Capire dove punterà il sole nel momento in cui siamo presenti sul posto è l'arma migliore per poter scattare delle foto sempre perfette. Quindi prevalentemente che cosa faremo? Dirigeremo la modella verso il sole e magari useremo anche un piccolo pannello riflettente per compensare le zone d'ombra. Ma come dicevo prima, il sole è in costante movimento, quindi potrebbe anche non trovarsi nella posizione che preferiamo. Quello che faremo quindi è andare a usare il flash come luce principale e a capire come poterlo impostare. Questo accessorio spesso viene associato all'illuminazione di una scena molto buia, che ha la necessità di essere illuminata. Troppo spesso, infatti, mi è capitato di sentirmi chiedere il perché stessi utilizzando un flash in pieno giorno. Il flash è uno degli strumenti più utili per la fotografia alla luce del sole perché ci permetterà di andare a compensare quelle fastidiose proiezioni d'ombra che si vanno a creare nella parte opposta a dove viene la luce del sole. Quello che dobbiamo fare è studiare lo scenario che abbiamo davanti e agire intelligentemente per avere il miglior risultato con minimo sforzo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andiamo a visionare le immagini e a studiarne il tipo di tecnica utilizzata. Prima di tutto vi voglio dire come è stato settato il flash, ovvero in high speed. L'high speed è una funzionalità che ci permetterà di scattare con un tempo di esposizione anche molto veloce. Vi dico brevemente che scendendo sotto il 160esimo, il 200esimo, poi dipende dalla fotocamera stessa, si rischia di andare fuori tempo di sincronizzazione. In poche parole il sensore non è mai completamente scoperto, quindi la tendina non è mai completamente aperta e potrebbe verificarsi una riga completamente nera che va a rendere inutilizzabile tutta la foto. Per ovviare a questo problema appunto usiamo l'high speed che ci permette di avere un flash impostato in una maniera molto particolare perché va a suddividere in una frazione di secondo veramente infinitesimale, quindi impossibile da percepire a occhio nudo, il lampo in tanti piccoli lampi che vanno a illuminare in maniera continuativa il sensore e quindi a permettere alla fotocamera di avere la luce in tutto il tempo in cui il sensore è scoperto. Tutto questo perché ve lo dico? Riassumiamo brevemente. Se avete una situazione molto assolata, quindi con molta luce, e volete aprire il diaframma come in questo caso, vedete che già qui dal secondo o terzo scalino subito dietro la modella comincia a essere sfogato, è ovvio che la fotocamera farà entrare un quantitativo di esposizione veramente molto alto, quindi dovrete compensare necessariamente con il tempo di esposizione, ovviamente partendo dal presupposto che le ISO sono già al minimo. Il tempo di sincronizzazione dunque non è rispettato e quindi dovete mettere per forza su high speed. Quindi avrete già capito che il diaframma è aperto, qui stavamo su un valore 4, le ISO stavano a 100, mentre il tempo di esposizione era addirittura un 2.500. Per settare al meglio questo tipo di esposizione ovviamente abbiamo usato un esposimetro, indicando i valori che avevamo sulla fotocamera e cercando di capire quanta potenza di flash dovevamo mettere. Il flash a disposizione in questo caso era un Golox AD300, quindi un 300W molto performante e leggermente superiore a un normale flash a slitta, ma in tutti i casi potrete raggiungere anche con il vostro flash a slitta stesso una potenza sufficiente per avere uno scatto di questo genere. Infatti come avrete visto sul video, la luce veniva prevalentemente da questa parte, infatti c'è una lieve proiezione di ombra qua sulla sinistra, mentre la luce del flash è stata proiettata dal lato opposto, proprio per compensare l'enorme ombra che si veniva a creare in questo punto. Avrete anche notato che ero io a tenere il flash, questo perché già ci trovavamo su una scalinata, quindi posizionarlo al meglio era molto difficile, poi c'era un po' di vento, quindi ho deciso di tenerlo io in modo tale di avere un'esposizione perfetta e tarata sempre al meglio. Avere un assistente in questo caso è sicuramente un'ottima cosa, soprattutto un assistente che riesce a leggere esattamente qual è l'esigenza del momento. La modella infatti andava a muoversi, a cambiare la sua angolazione e quindi a spostare leggermente l'ombra su questo punto. Di conseguenza io andavo a fare dei micro spostamenti adatti per avere un tipo di risultato di questo genere. Vedete che la luce è totalmente morbida, sembra molto diffusa, in realtà, vi ripeto, stavamo in pieno giorno verso l'ora di pranzo, in una giornata estiva, quindi provate a immaginare quanta luce andava a proiettarsi in questo punto e quanto era puntiforme. Andando alla foto successiva ci siamo spostati leggermente per quanto riguarda lo scenario per andare su un taglio un po' più stretto. Anche qui abbiamo utilizzato il flash. Vi faccio notare però che la compensazione della luce adesso è leggermente minore rispetto a prima. Volevamo infatti mantenere una certa ombra proprio per dare la sensazione che ci fosse una giornata molto soleggiata e quindi l'ombra è ancora visibile ma non così forte o perlomeno così fastidiosa come era in realtà in quel momento. Spostandoci poi verso il laghetto dell'Eur che ci presenta uno scenario altrettanto interessante abbiamo riutilizzato la tecnica di prima per avere un'ombra quasi del tutto annullata ma questa volta abbiamo cambiato leggermente le impostazioni perché se notate si era annuvolato quindi la luce era un po' meno forte anche un po' più diffusa di conseguenza il tempo di esposizione si è abbassato intorno al cinquecentesimo dandoci la possibilità di abbassare la luce del flash. Perché dandoci la possibilità? Perché è molto importante anche avere la giusta potenza del flash che ci metta nella posizione per risparmiare un po' di batteria. Anche in questo caso diaframma molto aperto e una ringhiera che si stacca perfettamente dal resto dello sfondo e che crea molta tridimensionalità. Infine siamo andati sotto gli alberi sfruttando un'ombra e quindi una luce abbastanza diffusa ma notate che si andava verso il tramonto quindi c'era una forte illuminazione da questa parte si nota anche sul lato destro della fotografia stessa quindi ho messo un flash da questa parte anche abbastanza vicino ma comunque molto basso a livello di potenza per restituire la morbidezza che andavamo cercando e mantenere quindi sempre l'effetto sfocato e nascondere anche qualche elemento qua dietro se notate qui c'è una strada quindi c'erano anche delle persone sfogando il tutto siamo riusciti a rendere la situazione molto più gradevole quindi quattro foto diverse ma con un elemento in comune appunto il flash che è andato a compensare la luce del sole settato nel modo giusto e magari anche con un esposimetro esterno a disposizione il risultato sarà sempre ottimale usare il flash di giorno quindi potrebbe essere indispensabile per avere delle foto sempre corrette e con la giusta esposizione certo soprattutto in questo caso è necessario fare tanta pratica perché la luce del flash non è una luce continua sempre presente e quindi tangibile fate tantissime prove e cercate di ridurre al minimo il margine di errore anche perché se state usando un flash esterno a slitta le batterie potrebbero consumarsi in un tempo molto molto ristretto in tutti i casi se avete delle domande scrivetemi qua nei commenti e ricordatevi di iscrivervi al canale attivate anche la campanella che è l'unico modo per essere sempre aggiornati sulle mie nuove uscite e quindi sulla terza parte di questo mini corso la prossima volta infatti vedremo qualche consiglio utile come mischiare un po' le nozioni che abbiamo visto in questi due video precedenti e altri piccoli consigli seguitemi anche sui social e noi ci vediamo la prossima settimana ciao ciao ciao